E veniamo adesso a parlarvi di Francesca Del Taglia, che ci svela particolari della non scelta di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Nel senso, che Teresa alla fine, per dei motivi che a noi fuggono ha scelto Andrea Dal Corso e non Antonio Moriconi. Diciamola così, noi generalmente la pensiamo spesso con Francesca Del Taglia, ma questa volta sinceramente non molto. Ovviamente come, le più attente di voi avranno notato Francesca era presente alla scelta di Teresa Langella e con lei era presente anche Eugenio Colombo. Insomma Francesca è stata in prima fila per la scelta di Teresa. Dice Francesca Del Taglia della scelta di Teresa. Teresa ha scelto con il cuore e comunque sia andata è stata la scelta giusta. Sono sicura che ci metterà poco a ritrovare il suo splendido sorriso. Ma poi riserva anche un pensiero molto bello per Antonio Moriconi del quale dice. Voglio fare anche un grande in bocca al lupo ad Antonio perché di persone così belle ed autentiche ne esistono davvero poche. E a voi sinceramente piacerebbe che Antonio diventasse il nuovo tronista di Uomini e Donne.